Bentornati a Radio Design, io sono Nicola Palumbo, non mi presento più, basta, inutile. Oggi partiamo con un nuovissimo programma, sto gridando, lo vedo qui dal picco, un nuovissimo programma che parla di vino e design. Abbiamo qui il fantastico studio di Radio Design, qui l'istituto italiano di design, tre stupende, bellissime donne, molto competenti, questa è la cosa che ci interessa di più. Parleremo di vino, quindi introducetevi velocemente. Che abbiamo con noi? Allora, piacere a tutti, io sono Eliana, aspirante sommelierais dell'Umbria e ho portato qui per voi un bellissima bottiglia Montefalco Rosso dell'azienda Antonelli dell'annata 2015 e che vorrei degustare insieme a voi. Io sono Anastasia Ricci, già ho fatto un'altra diretta, frequento l'istituto italiano di design e faccio comunicazione e quindi sono qui per intervistare appunto Eliana che ci parlerà del vino. Io sono Satia Ranghiacci e questa è la mia prima volta a Radio Design e faccio il corso di Communication Design e anche io sono qui per fare delle domande rispetto al vino Montefalco della Cantina Antonelli. Allora, come ho accennato prima, ho portato a Montefalco Rosso dell'annata 2015 che noi sappiamo essere un'ottima annata per l'Umbria con una crescita del 20%, questo dato da una primavera mite, da un'estate non troppo calda e da piogge a fine agosto che hanno permesso una ricchezza fenologica e aromatica delle uve. Quando parliamo di Montefalco Rosso Doc, parliamo di un blend, di un uvaggio che concerne il 70% di Sangiovese, 15 Sagrantino e 15 Montepulciano. Parliamo un attimino velocemente della tenuta Antonelli che è stata acquistata dalla famiglia Filippo Antonelli nel 1881, apparteneva tra il XIII e il XIV secolo al Vescovo di Spoleto e con 170 ettari noi ne abbiamo 45 ettari vitati e 10 invece dedicati all'ulivo. Perfetto. Cosa ci sa dire della degustazione del vino rosso di Montefalco? Allora, noi questo vino l'abbiamo aperto già un po' di tempo per permettere a quest'annata 2015 di aprirsi, di permettere a tutto il bouquet aromatico del vino di fuoriuscire, di apprezzarlo. E cercherò di farvi una degustazione abbastanza celere. Allora, ne versiamo un po'. La prima cosa che facciamo quando noi degustiamo un vino come questo è porre il calice a una fonte di luce e questo ci permette di, fonte di luce che io ho di fronte, ci permette di vedere se abbiamo delle particelle in sospensione del vino. Ne analizziamo l'aspetto, ne analizziamo il colore. Questo perché? Perché il vino racconta. Racconta a partire dall'annata, racconta a partire dal blend, dall'uvaggio, perché ha anche il colore. Il colore possiamo capire se è un colore sano, se il vino è in salute, se il vino è di annata, perché assume una colorazione diversa. In questo caso noi abbiamo un bellissimo, e per il colore noi poniamo il calice su una superficie bianca, che io adesso sto vedendo qui. Abbiamo un bellissimo colore rosso rubino pieno, un corpo veramente pieno, con qualche riflesso violaceo, ma proprio molto, molto, molto tenue. L'aspetto quindi è bellissimo, il vino è vivace e noi lo facciamo ruotare. Ruotando il vino, noi lo apriamo per il bouquet aromatico che presenta, ma vediamo anche la sua consistenza, la sua massa, io dico, nel calice, perché ovviamente ogni vino ha un suo corpo. E possiamo anche analizzare, ruotando e vedendo, un attimo che gestisco bicchiere, calice e cose, le lacrime che viene a formare sul calice. Questo ci permette anche di analizzare il tenore alcolico del vino. Dopodiché passiamo a una degustazione olfattiva, cominciamo a, scusa del termine, ficcare il naso nel calice, e vediamo quali famiglie aromatiche può presentare, quali floreale, fruttato, non minerale, perché sul terreno umbro, in questo caso abbiamo un terreno che non è roccioso, ma argilloso, calcareo. Quindi questo non dà effettiva nota minerale. Ci aspettiamo frutta rossa, frutta a bacca rossa, abbiamo una ciliegia, una marasca, una prugna, frutti di bosco, ancora abbiamo... Cos'è una marasca? È sempre una tipologia di ciliegia, un po' più dura della ciliegia classica. Ok, io sono l'ignorante del gruppo, che faccio le domande e ignora. Benissimo. Sono evitato di fare una figura, però. Vabbè, ci sono io che faccio le figure. Prego, continui. Sì, prego. Dunno, abbiamo quindi un vino che è abbastanza, diciamo, complesso per quanto riguarda le famiglie. Non abbiamo mineralità, ma abbiamo un centore erbaceo che magari rimanda un pochino al rosmarino. Quello là proprio fresco, fresco, magari di ruggiata, che ha ancora qualche gocciolina, non tanto quello cotto o quello da spezia. Dopodiché si passa all'assaggio del vino e si fanno due sorsi. Direi che mentre fa l'assaggio del vino, raccontiamo un pochino, la nostra Anastasia può raccontare qualcosina in merito all'azienda che ci aveva preparato, giusto? Attenzione, vedo il panico. Allora passiamo direttamente a un racconto con Satia dell'etichetta. Cosa possiamo raccontare? Beh, allora, l'etichetta si presenta sin da subito molto elegante. E evidentemente, sì, scusa, volevo farti una domanda, Eliana. L'arco che, insomma, diciamo che è sempre presente in tutte le etichette, fa parte della tenuta Antonelli, cioè, a parte il loro logo proprio... All'inizio proprio del mondo. È l'ingresso dell'azienda che, essendo una tenuta che apparteneva ai Longobardi, hanno tenuto nel richiamare questo aspetto un po' medievalista appunto dell'Umbria, sia come loro logo principale, sia su tutte le etichette dell'azienda Antonelli. Ok. E, beh, insomma, comunque l'azienda Antonelli è molto importante nel territorio Umbro e diciamo che poi in Montefalco Rosso è un must, immagino, no? Comunque appunto il packaging è molto tradizionale, quindi anche il packaging è elegante come la stessa carta. E che dire? Come? Il font? No, il font non lo so. Però dico che il carattere di font è. Però anche il fatto che l'aschetta è rossa mette molto risalto l'etichetta e in conseguenza anche il cuore del vino appunto rubino, diciamo. Beh, comunque il font è graziato dal punto di vista diciamo nel linguaggio grafico presenta delle grazie. Quindi anche questo sta sempre a ricalcare questa questa cosa dell'eleganza, immagino, no? E beh, sì, è della tradizionalità. È un prodotto pregiato. Secondo lei questo vino a cosa si può abbinare? A quale cibo? Ma io ci vedrei benissimo una tagliatella, un raviolo oppure se vogliamo andare su un semplice che per me invece è il top un bel formaggio stagionato. È un bicchiere di questo Montefalco Rosso e siamo tranquilli. Che spettacolo! Volevo dire una cosa importante per l'azienda Antonelli perché ci tiene veramente tanto. Questo vino ma comunque tutti i vini dell'azienda Antonelli sono biologici e loro sono in biologico dal 2012 dopo tre anni di rivalutazione del territorio e lo stesso Filippo in alcune interviste ha posto l'accento sul fatto che biologico significa lavorare in armonia tra il terreno tra l'uomo e la cultura e cultura e questo fa in modo di ritrovare molta qualità nel calice e soprattutto molto sentore di varietà nello stesso calice. Bene, possiamo aggiungere qualcosina? Io così anche se non sono un grafico posso dire che sicuramente a livello di comunicazione possiamo vedere come sia appunto un'impostazione abbastanza classica tipica delle etichette di vino diciamo non ci sono quei salti di colore o cose vivaci che magari fanno parte dei produttori che si affacciano ora sul mercato anche questo tipo di colore appunto richiama molto la tradizione è un qualcosa che probabilmente non si discosta tantissimo dalla comunicazione che si fa da decenni sul vino comunque rimane sempre un'etichetta molto elegante colori abbastanza sobri quindi ci può stare anche ci sono gli elementi classici che sono l'annata che viene messa in evidenza sostanzialmente adesso non conosco le altre etichette ma penso che ci sia sempre in evidenza il logo come lo faresti tu Satia un'etichetta come ti lanceresti con un riprending così nell'immediato beh non saprei solo che sicuramente punterei intanto nel cambio della carta e insomma di farla almeno bianca e poi insomma di togliere questo è molto bello comunque non voglio però vorrei diciamo dare un impatto diverso e casomai invece di mettere non so se è disegnato a china o a matita cioè di dargli un aspetto proprio più digitale più sì più digitale qui ci richiama al minimalismo che fa parte della diciamo della tradizione moderna della grafica adesso lo dico da profano adesso se Pampanelli l'ascolta professore di progettazione grafica un umile parere da web marketer quindi attenzione attenzione ok allora abbiamo fatto questa analisi a che punto siamo abbiamo finito abbiamo concluso la nostra analisi beh che dire abbastanza semplice del vino comunque noi del settore molto spesso diciamo che queste annate sono un po' degli infanticidi nel senso che hanno bisogno di tempo per affinare ancora di più e per dare un carattere nuovo al vino in questo senso noi abbiamo un tannino che è la parte polifenolica che si trova sulla buccia dell'uva insomma polifenolica per tutti gli ignoranti cosa cosa sta a significare e è una sostanza chimica che tu trovi sulla buccia che viene poi a caratterizzare i vini a bacca a bacca rossa che si trova anche una quantità piccola percentuale piccola anche nei vini a bacca bianca in questo senso in questa annata e sia per il carattere del Sangiovese e del Sagrantino abbiamo un tannino ancora verde quando dico un tannino verde acerbo un po' spigoloso io faccio sempre l'esempio di mangiare una mela verde acerba cioè la croccantezza proprio quella rigidità di aspettare magari una mela un po' più morbida e che questo vino vuole ma assolutamente è una annata che io berrei tranquillamente come ho detto prima con un formaggio stagionato per le seratte alcoliche ci consigli questo vino per iniziare se vogliamo bere solo rosso iniziamo dal 2015 stavi dicendo qualcosa secondo me è talmente buono saporito con tanti aromi non penso si possa sprecare così però idea mia insomma da non alcolizzata quindi deve essere abbinato insomma deve essere studiato assolutamente bravo giusto giustissimo io ovviamente stavo scherzando questi sono vini non sono tavernelli classici che sfruttiamo in quel modo comunque è tutto uno scherzo stai dicendo qualcosa Eliana? no ogni vino ha suo perché facciamo brutta pubblicità insomma no no certo poi bisogna trovare il perché di certi vini ma noi non lo diciamo noi non lo diciamo l'ho appena detto io lo posso dire perché sono fuori dal programma è stato molto interessante però abbiamo una novità mentre tu ce ne bevete anche voi un testo un calice così vediamo che è quello che ho detto magari dov'è? intanto io verso tu fai la novità ok allora ok la novità è che c'è un evento molto interessante e quindi ci collegheremo adesso faremo una diretta Instagram e ci collegheremo con un Instagrammer io faccio le prove perché fai la prova fai la prova e racconta anche tu al microfono mentre io faccio partire la diretta Eliana ci racconta meglio questo evento esattamente infatti così è proprio color rosso lupino un evento a cui in questi ultimi tempi mi sono veramente affezionata praticamente sono tre blogger italiani che si sono conosciuti su Instagram quindi il potere proprio del web positivo e hanno deciso di condividere una passione la passione per il vino ma non si sono fermati a questo e hanno deciso di creare una vera e propria community che unisse tutti gli appassionati di vino e il primo e il due dicembre sono qui in Umbria da Broccatelli Galli a fare una degustazione alla cieca e ogni partecipante ne sono circa quindici in totale ma trentina di persone faranno una degustazione alla cieca dei vini che porteranno ognuno dalla propria regione quindi ci ho tenuto a dare l'importanza a questo evento e abbiamo un po' un po' complicato intanto il vino come l'avete trovato? esattamente come ha detto lei sono contenta sì sì non ci capisco molto di vino però facciamo una prova fate un altro piccolo sorso e il vino schiacciatelo fatelo girare sulle gengive e vediamo questo tanni ah ciao Thomas ce l'abbiamo fatta cioè ragazza abbiamo Thomas collegato con l'istituto salve Thomas sentite mi sentite? sì sì ma non la facciamo in diretta su Instagram? era un pochino complicato no è una videochiamata questa allora prego Eliana fai tu le domande che le cuffie così puoi sentirlo e Thomas com'è che è nata questo evento questa passione che avete voluto condividere nel senso vi siete conosciuti direttamente su Instagram sì ci siamo conosciuti direttamente su Instagram si sente bene spero se non si sente me lo dite ok ci siamo conosciuti su Instagram perché condividiamo la stessa passione che è quella per il vino ognuno comunicava il vino a modo suo ovviamente non ci conoscevamo realmente ci siamo conosciuti proprio su questa piattaforma e abbiamo deciso di incontrarci per parlare delle nostre idee dal vivo e da qui è nata un'amicizia e poi dall'amicizia è nato un progetto e il progetto si chiama Blind Blogger Testing come vi seguivo quindi so che ne stavate già parlando che è un progetto che il cui focus è la valorizzazione del territorio italiano quindi noi ci puntiamo tanto a valorizzare l'Italia perché l'Italia è un grandissimo paese è un bellissimo paese il vino fa parte della cultura italiana e quindi noi vogliamo spingere tanto questa cosa possono partecipare tutti a questo blind non c'è una differenza né di follow no 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 può partecipare chiunque abbia un account Instagram questo è l'unica cosa che chiediamo quindi anche voi tre se volete venire la prossima volta potete venire è un bel evento ve lo consiglio perché ci si diverte si scoprono tante cose nuove si studia anche perché non è solo divertimento però si visita delle cantine molto interessanti che a loro volta credono nel progetto quindi non voglio dire interessante troppe volte però è veramente una figata ma senti non abbiamo noi scelto l'Umbria è l'Umbria che ha scelto noi assolutamente guarda sono sono veramente molto contento perché la seconda regione in Italia che ha deciso di ospitare questo evento è l'Umbria e spero guarda ancora non l'abbiamo fatto ma spero di tornarci perché dall'entusiasmo che ha avuto la cantina che ci ospita che è Brocatelli Galli non ce l'aspettavamo tutta questa audience e anche grazie a voi che state facendo questa trasmissione dedicata proprio al Blind e ai vini Umbri perché prima vi seguivo nella degustazione è una regione che ha accolto in pieno questo progetto e noi ci mettiamo del nostro con la nostra passione ma loro ci stanno mettendo più di quello che ci stiamo mettendo noi quindi è un connubio di passo veramente spettacolare beh meno male insomma che si riesce a valorizzare la passione di bloggers oggi sul digitale perché molto spesso ci si ferma l'apparenza insomma invece a parte che comunque poi non mi rientra nulla perché molto spesso mi arrivano domande sì ma loro che ci guadagnano cos'è perché lo fanno non c'è assolutamente nessun rientro diciamo personale no non c'è non c'è nessun rientro personale noi prendiamo accordi con la cantina per far star bene tutti sia noi che partecipanti quindi noi offriamo un servizio alla cantina che è pubblicità su Instagram si sa adesso voi parlate di social network quindi ne sapete forse meglio di noi che la pubblicità adesso si muove in digitale si muove sui social network Instagram è il canale che sta andando più di tutti e che andrà ancora di più negli anni a venire quindi loro hanno capito questa cosa ci credono in piene hanno un account su Instagram attivo quindi noi offriamo pubblicità loro loro ci ospitano quindi hanno scambio alla pari e siamo veramente contenti sia noi che loro che i partecipanti che sono ancora più più gasati di noi quindi ma i partecipanti vengono da tutta Italia non è ora questa cosa ci voglio mettere l'accento perché c'è gente che viene dal Veneto piuttosto che dal Molise dalla Basilicata cioè questa è la vera figata nel senso che noi con delle storie su Instagram siamo riusciti a prendere delle persone da tutta Italia e portarle in Umbria per fargli conoscere il territorio Umbro questa cantina in particolare che si è proposta quindi per tutti è una novità per la cantina per noi e per i partecipanti è meraviglioso sì io mi grazie veramente mi sono entusiasmata perché è raro riuscire a trovare tanto entusiasmo tanta passione condivisa creando una relazione creando comunicazione che oggi è tanto difficile riuscire a comunicare in modo un po' più autentico con gli utentici è sempre un po' in quell'area fittizia tra persone invece voi siete autentici siete creativi e siete imprenditori di voi stessi quindi tanta tanta stima grazie 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 ma non mi sono collegato per prendere i complimenti ma io li faccio sempre i complimenti chi mi conosce ne sa bene no grazie perché noi siamo contenti di questa di questo evento ci piace spingerlo in modo genuino siamo tre persone che nella vita fanno tutt'altro quindi solo passione quella che ci spinge a visitare il territorio italiano a visitare le cantine ad assaggiare i loro vini veramente ci mettiamo il cuore l'anima e ci fa piacere che le persone come voi e le cantine capiscono ne giriamo tantissime e siamo veramente molto contenti grazie 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 la salutiamo la ringraziamo molto no la salutiamo no ti salutiamo tranquillo grazie molto grazie mille grazie grazie ragazzi mi raccomando salvate la diretta che poi me la mandate assolutamente grazie ok ci siamo bene bene è stata una prima puntata molto soddisfacente ho bevuto solo io spero che negli prossimi fai l'assaggio un attimo allora così potrei sì ok sì mentre io racconto intanto dove potete trovare questa puntata passate procedete all'assaggio prego fai quei due sorsi sì come dicevo prima schiaccia sul palato sulle gengive fammi dammi soddisfazione su questo tannino certo dai un po' di soddisfazione intanto io posso dire questa è stata la prima puntata per Sati era la prima volta per Anastasia era la seconda per te la prima sì sono andata in radio con Antonio ma quella è un'altra storia sì quindi devo dire che siete state promosse tutte adesso facciamo anche l'esame finale così sulla diretta io sono promossa a prescindere sono promossa a prescindere sempre vi posso dire che se riusciamo insomma a avere una cadenza settimanale magari intanto qui dicono senti lo senti l'anima ma lei non degusta adesso degusto anche io lei è riferito a me sì intanto questo diventerà una specie di salotto alcolico molto serio perché Eliana ha dato l'impostazione serissimo sono contento perché effettivamente il vino è una cosa seria tra l'altro saluto se c'è Jacopo Cosater che che ci segue spesso su Radio Design magari lo invitiamo anche visto che lui lavora per intravino quindi anche lui è esperto di vino io vorrei una domanda a Eliana prego come è venuta la passione per il vino per depustare il vino bella domanda questa eh sì praticamente è nata per gioco nel senso che mio papà è appassionato di vino e nel tempo quando ho viaggiato all'estero o semplicemente per l'Italia io ho sempre riportato una bottiglia perché era il nostro gioco trovare l'annata particolare e così ehm dopo la laurea di dell'anno quando mi sono laureata due anni fa avevo deciso di intraprendere il primo corso l'ice sommelier insomma che mi è stato regalato dai miei compagni e lì ho scoperto che dietro al vino c'è un mondo c'è un mondo perché c'è tanto lavoro tanta passione bisogna impegnarsi bisogna studiare perché come dicevo prima il vino racconta e io voglio ascoltare e ascoltando ho la necessità di raccontare a mia volta quindi mi ci sono messa proprio di impegno e seriamente e grazie poi a Elisabetta che io sono sempre lì a ricordarmi di lei mi sono appassionata e ho voluto continuare perché pensavo che si finisse col primo livello insomma ho continuato con i livelli e spero che questa questa passione possa diventare anche una professione in parallelo diciamo le altre tipologie di lavoro che faccio e quindi niente io come ogni cosa nella vita prendo tutto molto sul serio beh dai che spettacolo molto grazie perfetto grazie bene allora facciamo la chiusura vi spiego in diretta come si fa la chiusura si saluta a tutti si ricorda sempre che il programma si può vedere su youtube siamo in diretta su in questo caso sull'istituto italiano di design troverete questo video poi anche su radio design e potrete abbonarvi a questo podcast fra una settimana circa anche su spotify per voi che siete giovani su spotify voi giovani ma anche no lei no è anziana siamo in due io spotify però anche se sono vecchia perfetto io devo sperimentare le cose quindi ce l'ho e poi anche su itunes ok quindi coloro che hanno ios potranno trovare questo podcast anche lì intanto qui la gente passa e ci saluta voi fatemi un saluto finale io intanto ti vorrei questo progetto grazie 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 mille Nicola e ringrazio anche Eliana grazie grazie mille dolcissimo all'accompagnatore che non si è visto ciao a tutti